3, bastardo, no? 4. 3, 3. Perché non ho fatto la stessa gamba. Sì, sì, senza lo strozzo, o meno stavolta. Hai fatto la stessa gamba? Siete tu persi da me. Sì, basta che poi ci metterò per sentire un video. Il combattimento ci stanno... Di che è un video? Stai a tagliarlo! E' il cazzo! Già fra, ma... E' il cazzo proprio, eh? Mazza, ma che cosa hai ragazzo? Come and I? E' il cazzo, che cazzo... E' il cazzo, che... E' il cazzo... E' il cazzo... E' il cazzo... Grazie. 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 Grazie.